Buona giovedì 18 marzo. Gesù invita i discepoli a riflettere, a credere nella parola che gli porta e a intravedere quella parola nelle scritture. Gesù dichiara la sua trascendenza, la sua appartenenza al Padre, e invita a credere a quella trascendenza, quella trascendenza che è scritta nell'ordine dell'amore, nella assenza di giudizio, nell'accoglienza. Gesù chiede ai suoi discepoli di uscire da una tiepida appartenenza per esprimere in pienezza la radicalità della fede, che è credere in una parola che non è nello spirito semplicemente della legge, ma è nell'ordine dell'amore. E Gesù sarà colui il quale verrà sacrificato, morirà e risorgerà e porterà il messaggio nuovo che ci indica la strada maestra per vivere nella pienezza dell'amore e della vita, facendoci esploratori attenti della parola delle scritture, ma sempre ponendo l'attenzione alla dimensione della trascendenza di una appartenenza universale, che è l'appartenenza al Padre, al Padre che è segno di amore, è segno di accoglienza e segno autentico e concreto di disponibilità ad accogliere anche il più fragile degli esseri umani, anche il più peccatore, nella dimensione non del giudizio, ma della redenzione, di liberazione dalla condizione della morte per vivere l'intensità della vita che Gesù esprime nella sua esperienza terrena e trascendente. Buona giornata a tutti.